Due mediani davanti alla difesa e tre trequartisti a supporto di acqua fresca, oppure meglio il modulo ad albero di Natale? Donadoni sfoglia la margherita nella settimana che porta alla trasferta contro il Genua e nell'amichevole di questa sera contro il Porto Torres al Comunale di Ussana prova entrambi i moduli di gioco. Tre tempi da 30 minuti, 2-0 il risultato, con leggera preferenza per lo schieramento utilizzato a Napoli, con Lazzari e Cossu a supporto dell'unica punta. Ho provato qualche soluzione in più, perché chiaramente poi domenica mancheranno anche i conti, però questa è una cosa che facciamo anche in settimana, non è oggi che si decide nulla, quindi vedremo. Una sgambata tutto sommato positiva a quello contro la formazione di Affuso, quinta in Serie D, che per l'occasione schiera tra i pali Federico Marchetti. Proprio il portiere di Bassano del Grappa risulta essere tra le notte più liete del mercoledì, insieme a Michele Fini, ex Rosso Blu, che si allena col Porto Torres. Le reti di acqua fresca di Ragazzo decidono il match, ma il tecnico Donadoni pensa anche ad Astori, oggi assente, disponibile per domenica e ieri esordiente in nazionale. È chiaro che un giocatore che è nella nazionale deve farsi sempre trovare pronto, e lui questo diciamo che ha rotto il ghiaccio, ha provato due emozioni diverse, questo però è un buon inizio per lui. Grazie.